solo un punto per luna russa per chiudere al primo posto il round robin conquistando così la possibilità di scegliere il prossimo avversario la sconfitta con inios britannia ha evidenziato come alti venti 18 nodi ci mettono almeno rispetto a loro in inferiorità è vero che questo vento statisticamente parlando non è usuale oggi si riparte alle 14 con alinghi buon vento a tutti